Noi, voi. Un hashtag di gruppo. Mio, tuo, nostro. Lo scambio di idee ed esperienze è alla base dei nostri rapporti. Più contenuti, relazioni, emozioni, fin dall'inizio. Siamo Energie Rinnovabili. Riconoscibili per una insolita mobilità. Caratterizzati da un'efficienza, elemento di successo per i nostri clienti. Siamo social da sempre. Con un profondo attaccamento a una vasta community di professionisti che cresce e si consolida in un mercato complesso. Con voi formiamo un gruppo di esperti per trovare le soluzioni tecnologiche per migliorare la qualità della vita. Siamo una realtà aumentata. Con noi migliaia di persone possono sempre contare su un gruppo forte, affidabile, per essere più open e smart connessi al mercato. Insieme possiamo essere la potenza del sistema. Grazie. 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 Grazie.